Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video sono Giuseppe e io oggi giochiamo con 8bit io a Brawl Stars qua c'è mia sorella ciao a tutti ragazzi Andrea nel suo canale e facciamo facciamo la partita le selle scarsa a Brawl Stars non è vero dai altri si si perchè non si gioca mai si gioca sempre sono già tutta 8bit si compiuta anche la sua questo è perchè non ho preso ok 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 lo faccio prendere ok 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 ho vinto la sorella ha vinto una sorella perchè dice perchè dice no io sono scarsa certo lo metto ora ora, per farlo non ci sono non ci sono si sentite? no, ora ora, si sentite? non c'è non c'è un po' non c'è un po' non c'è un po' che non scarsa questo questo di qua Che amare e scottoso. Non sul gioco amore. Non dire insulti per favore. Solo questo. Che volete... Altri video di altri giochi. Tipo di calcio. Queste cose del genere. Scrivetemi nei commenti. Gitto Alessia. Scusate, raga. È una sorella che mi ha fatto. Devo fare un video. Sono scarso. Lascio adesso. Però... Non posso sentire la tua voce. Non si capisce niente. Ciao, raga. Sto accambando la stanza. Perché... Mi sa... L'ha detto... Non mi distrubare votare. con un netto perché anche lei fa aiuto buonanatarsia e no ok no 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 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 1. 2. Sono scarso! Dite ai commenti che sono scarso! Non ti preoccupare! Io mi insulto a me! Mi insulto a nessuno! Ciao! Ciao! Ciao Grazie.